Grazie a tutti. Buongiorno a tutti. Allora sono venuto per lanciare un nuovo prendo. Sindaco può venire un attimo per piacere? La maglietta di Ferragamo questa qui che ci ha regalato con la fascia da sindaco. La venderemo a San Lorenzo. Grande sindaco, grande, grande, grande sindaco. Grazie a tutti. Io mi sono messo questa maglietta costituita con lì, già costituita con lì su là. Pensa che si devono partecipare anche alla forza. Quindi io vorrei, sì, scappare. Però mi fa piacere essere qua perché insomma il mio mestiere è quello del comico. Che porta tante sorrisi, che porta l'allegria. Quindi così come siamo vicini alle persone che sorridono, mi fa piacere ogni tanto essere vicino anche alle persone che in qualche modo soffrono. e tutto questo ben di Dio è a favore di queste persone. Quindi quando possiamo è giusto esserci. Va bene? Oh, questo non mi ha visto. No, ci mettiamo di forza. Ci mettiamo di forza, non ho visto. Come sta? Tutto bene? Dopo si fa una canzone. Allora, ecco. Si diceva. Quando si annuncia a te? Non si sa mai. Mi sembra giusto. I tempi cambiano. Nuovi miti. Giusto? Perché qui c'è anche un'alca. Quindi... Vieni qui. Va bene. I bimbo mi hanno detto di scappare la stazione. No, seriamente. Per esempio, al mare annuncia. Se il marito è un bambino, chiunque lo dovessi è spiegato di tenessere. No, è una canzone. Si c'è. O, la stia un bambino è spiegato di tenessere.